Buon pranzo a tutti, buon fine settimana, buon sabato. Fabio, che piace? Puoi passare un po' con la voce? Grazie. Allora, oggi pranzo fresco, allora, perché siamo tornati da mare, o da poco, abbiamo fatto le docce. Allora, fresella con una bella insalata di pomodorini. Guardate qua, voi faccio vedere come la preparo. Allora, aspetta, mettiamo un'altra. Si bagna bello nell'acqua. Si fa stare un attimino, ecco qua. E si mette il comodoro sopra, vi voglio far vedere perché è uno spettacolo. Io invece mi sto fando il piatto, fesa di tacchino, zucchine trifolate, e poi dopo vi mangerò anche un poco di questo. Dopo però. Guardate qua, guardate che colori, che colori. Marta, questo è il tuo, mamma, eh? Ma c'è anche il peperoncino verde dentro, fa. Che spettacolo. Mamma mia. Ecco qua. Sei pronta, Marta, per dare, per fare l'assaggio di questa caponatina bellissima? Eh? Ma si capa bene, che il biscotto è duro, eh? Ma si capa bene, stai attenta. E no, e perché? È troppo duro, lo dovevo fare un altro po'. Amore. Amore, amore. Buon appetito, arrivederci. Un grandostic. Un quad obscene.